aiaia o quante bestia ciò dobbia e non fatemi ridere mentre no tu devi ridere perché tu sei l'uomo duros l'uomo che non ha non ha segreti o comunque stavo a leggere un po di cose su sto programmino è molto interessante molto interessante ma si è bello perché riesci a metterti anche in due tra quattro ma sei mi sembra sì no ma più che altro può fare delle modifiche sono secondo me molto 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 interessanti allora vediamo un attimo credo che siamo partiti con la diretta ragazzi a me mi vedete che stasera non mi tocca a me tocca a qualcun altro che ormai lo conoscete tutti quanti è indovinate un po chi è il duros eccolo eccolo è lui è presente e ogni presente e si è inventato sta diciamo sta battuta durante una live su youtube ed è scoppiata poi l'epidemia del del duros stasera che cosa ci offre maestro allora vi offro logicamente duros non poteva essere altrimenti speriamo funzioni sapone perché ho il tappo rotto però un po duretto lo è nato un po e a parte il duros che è fondamentale oggi mi è arrivato questo rasoietto qua non non l'hai mai provato il filarmonica giusto no è arrivato oggi è la prima volta che mi sbarco con filarmonica ah vabbè allora te lascio un attimo in intimità prova a scolamellarlo sulla mano prova a sentire come fa non fa tanto sulla mano però eh non canta tanto allora amministratori e moderatori bannate quest'utente dal gruppo perché dice che il filarmonica scolamellato in mano non non suona ecco come rompere un filo no tanto spero mi hanno detto che era filato non ho neanche neanche provato spero vada bene in caso cambiamo rasore aspetta che non mi chiede bravo e lo provo in diretta qua comunque ok perfetto intanto intanto saluto tutti gli amici che si stanno collegando che stanno vedendo questa questa diretta ma stranamente un un pennello che piace tantissimo a quest'altro che sta qui e parla con te no proprio così ma tanto per a sprelevare questo duro si setta un po' il pennello va bene madonna l'acqua che ci ha messo però figo santo eh sì è un po' non avevo strezzato bene il pennello sei emozionato eh sei emozionato quando è il momento catartico c'hai l'emozione infatti vado avanti a girare un pochino volemo il sangue questa questa te la lascio proprio proprio bella buttata così volemo il sangue volemo il sangue arriva arriva toccavoli tua ma ci sarà qualche bufoletto che andrà ma spero non di più ma sì ma si dice sempre così dai si dice sempre così allora ragazzi io volevo lanciare poi un'iniziativa scusa Federico te rubo la parola vai 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 perché vorrei intraprendere una una cosa che secondo me è carinissima poi ci possiamo mettere d'accordo tutti quanti siccome il gruppo comunque è una parte un po' intima del del nostro del nostro piacere volevo proporvi la possibilità di fare queste rasature un po' in tandem nel senso che io appaio così dal nulla dentro al gruppo pesco uno di voi che magari vuole fare una rasatura in diciamo in tandem io comunque gli do qualche piccolo mio consiglietto da esperienza personale e quindi se volete farvi la barbetta insieme disponibilità assoluta però ci dobbiamo mettere d'accordo perché secondo me è interessante perché io adesso lo guardo mentre serate gli romperò un po' le scatoline perché è giusto che sia così che mi critica no mi dai consigli ma però comunque vedo che monta parecchio è duro monta obbligatamente io devo raggiungere la partnership con qualche marca, qualche azienda particolare che penso che tu conosca in qualche maniera come nome dedicato appunto a questi termini un po' allusivi proviamolo questo fillarmonica fillarmonica è una soia da me o fita salutiamo pure Cosimo ragazzi scusate ma io sono su StreamYard la piattaforma che utilizzo per fare la diretta non vedo i commenti perché è meta user devo entrare in diretta quella che vedete voi per leggere i vostri commenti intanto buonasera a tutti quanti Eros sta per utilizzare il fillarmonica 14 vediamo se il maestro riesce questa sera a farci emozionare con il canto della lama vediamo un attimo che succede proviamo vadi vadi direi che canta canta e anche non so se si vede taglia ma non fate vedere sti peli tagliati per finta e poi li mettete in mezzo a barba dai su non mi fate ste cose hai scoperto che prendo la schiuma da qua hai usato pre barba Fede? si ho messo un po' di noai prima un po' di pre barbino ma quanto rompe le balle il baffo quando quando tirati col mano libera ma vedo che lei sta andando in modo perpendicolare verso la barba come sta affrontando questa rasatura dovrebbe stare a 20 gradi 25 gradi non avevo il cognometro eh non copi battute per cortesia lei è rimandata a settembre ma guarda io fondamentalmente l'avevo mirato da poco col mano libera e ho trovato il metodo per non arrossarmi non tagliarmi forse allora intanto saluto tutti gli amici che stanno stanno scrivendo scusate ragazzi ma io guardando su Streamyard quindi la sorte di regia purtroppo non vedo tutti i nomi certe volte mi da user Facebook user quindi non riesco a salutarvi ne approfitto per farlo entrando in live sulla diretta appunto nel nostro gruppo buonasera Italo buonasera Giuseppe buonasera Marco buonasera a tutti quanti e beh questa è dimostrazione è dimostrazione che il taglio del mano libera c'è ed importante ma io adesso te voglio stuzzicare un pochettino perché la chiamata che ci siamo fatti ieri sera non deve essere vana quindi te lascio sbarbare in completa tranquillità e dopo affrontiamo un attimo la tematica del mano libera fate una battuta raga fammolo rite così almeno vedremo un po' di cuoccio di sangue qualche cosa perché sennò nient'a noioso dopo un po' no dai sentite il filarmonica che canta se hai consigli ma io adesso ti sto semplicemente osservando voglio vedere un attimo come affronti anche perché in prospettiva quando tu fai il tuo lato credo che sia il sinistro lo fai sembra con un'angolazione un po' troppo aperta troppo capito cioè sembra guarda te la simulo cioè io vedo il rasoio che sta proprio per così quasi no è così ok così è più definito e quindi l'angolazione è quella giusta quindi tu fai quel traverso classico quasi obbligo sì perché non riesco ho provato molte volte a far così ma non riesco soprattutto non riesco a usare la sinistra hai provato tante volte con la mano sinistra tante no un po' di volte ce la fai vedere dopo che mi sono tagliato ho detto no quindi mi stai a dire no dipende un po' l'esperienza comunque allora stiamo al quanti passaggi hai fatto fino adesso? uno questo è il secondo ok perfetto intanto la gente vuole il sangue dovrei mettere la musica il radiatore quando fanno quando fanno massimo quando mi sa spero non ne arrivi neanche un profoletto finora perché il duro ti protegge ma l'hai sentito quanto è morbido quanto è morbido il frio armonico quanto è dolce quanto è piacevole all'umidi rocca in teoria ti dà quella sensazione un po' di di fastidio di rossore ma ce sta perché comunque sia è un micro disinfettante però tende a passare subito quindi l'effetto te lo dà la sensazione te la dà però comunque sia un po' di sangueto un rufoletto vabbè ma guarda neanche si vede neanche si vede e dopo un altro problema è qua il problema è farmi il contro di qua così che non ci riesco quindi quindi diciamo quelli avvantaggiati sono quelli che portano un po' il pizzetto perché riescano a fare tutto sempre arrivato la discussione no nel senso che comunque sia è più facile ma perché quando usavi il bilama no fai i contorni del pizzetto perché io l'ho portato durante il militare era una fesseria perché basta che tagliavi qua sotto andavi leggermente non dico dritto davi du mozzicate l'avevi fatto sì la parte la parte più difficile appunto è il mento a zona baffi zona baffi non posso di niente però nel corso della mia vita mi sono sempre rasato anche i baffi e posso di che non l'ho fatto con il mano libera non l'ho fatto con lo sciavette ma anche con la solito multinama era sempre comunque sia un pochetto un problema perché la distanza anzi lo spazio che c'è per fare quelle determinate operazioni è molto circoscritta anche qua faccio il contro sto provando ogni tanto ma non mi riesce bene dunque preferisco non farlo anche perché a me piace guarda ogni giorno dunque allora ascoltami un attimo cerca di fare una cosa quando vai sul mento perché ora stava a vedere un attimo sulla diretta quindi c'è un po' del leg cerca di fare il discorso ah ok poi se c'hai l'allume della rocca a portata in mano tra una passata e l'altra mettilo sempre e vedrai già la differenza dopo che hai finito se ce l'hai mettilo un pochetto e prova a dare una sforbiciata così e vedi che ancora il rasoio ancora raccoglie io adesso ho l'allume l'utilizzo dopo la seconda passata per togliere qua quello che resta esatto perché l'allume essendo una stringente ti aiuta comunque sia a far chiudere un po' i pori e quindi le conseguenze ti metti in posizione dritta i peli come era pollice indice sì semplice come se dovessi allargare qualcosa no come se devi allargare lo schermo del telefono ciao core guarda easy mi incastro no te parte te scivola troppo sto buros c'è niente da fa o se no semplice guarda un'altra tecnica è basilare a parte il doppiamento che mi è venuto sto periodo di quarantena è questo tirarlo su io di qua io di qua lo tiro su di qua no l'ha andato ormai è andato ragazzi ma più o meno incontro qua un po' però presentabile ecco qua il sangue c'è il sanguetto sono i brufolini della cioccolata questi è bello a te ci sono i brufolini quello mi inquadro a mezzo gusto sta buono a me se vede soltanto il pelo qua vicino alla catenina che è una cosa inguardabile dovrei mettere il microfono davanti così in modo dare che non si veda però vabbè che tocca fare stiamo a casa quindi le conseguenze se mangia no io oggi sto andando al lavoro prendo la lume mi sposto mi sposto un poco alluminio armadietto magico e qua c'è un po' e vediamo dovrebbe venire via un po' di restante che tutto lascio una mano che è il brufoletto maledetto no perché sembro io quando mi faccio la prova con il mano libero e poi arrivano gli espertoni ma non si fa così devi fare troppo ci vuole guarda aspetta no fermate metto un contributo audio prima che lo fai perché sai che non ci piacciono queste cose un po' divertenti dove vai no che mi è partito qui aspetta no comunque dicevo che non è non è così facile intraprendere una rasatura come si deve vai tipo tipo super sai che ricorda le musichette di quei di quelle console anni anni 80 no che andavano in che era 24 bit in 16 bit allora ragazzi non ve ne andate perché tra un po' si parlerà del discorso del mano libera e le difficoltà reali che esistono sul pianeta a mano libera quindi chi se lo perde si attacca al tram e poi cancello anche a dire perché io sono maledetto vedete ancora si vede un po' qua sotto che ha portato via anche a secco è normale che comunque comunque c'è perché come ieri sera noi ne discutevamo in privato anche per un confronto il mano libera tu sai meglio di me che è uno strumento non del tutto facile da utilizzare poi c'è chi comunque ha raggiunto una grande maestria di qua e di là però diciamo che sostanzialmente il radersi con il mano libera ti permette di affrontare la rasatura anche quotidiana senza grandi difficoltà secondo me chi dice che se fa il gran BBS super eccellente secondo me non dice del tutto la verità dei fatti perché il mano libera è confortevole è piacevole è profondo se viene utilizzato dal professionista Ergo il barbiere infatti ieri sera noi ci siamo confrontati e non è che penso che siamo gli utilizzatori della domenica ma comunque ci buttiamo il tempo sul mano libera alcune zone ragazzi sono talmente difficili da lavorare che purtroppo il pelo appunto del controvelo ancora lo riesce a percepire al di là anche del grado d'affilatura e quindi dico che radersi in maniera perfetta con un mano libera non è del tutto scontato non è tutto facile cosa che magari potrebbe essere un'affilatura un'affilatura potrebbe venire anche bene ma la rasatura fatta in modo perfetto come fa un raso di sicurezza uno chavette con mano libera un po' più difficilino fatto sta io personalmente anche con lo chavette nelle zone in cui non riesco mano libera non riesco anche con lo chavette però io ho trovato questa micro difficoltà tu me la confermi sta cosa o no io ti confermo tanto sto facendo un po' di pulizia come sai ho cominciato da poco con mano libera e la cosa più difficile è appunto trovare le posizioni giuste magari uno che è ambidestra e adesso usare la sinistra probabilmente va anche meglio ma usando solo la destra ci sono certi punti che proprio tipo questa zona qua la devi fare dall'altra parte e il BBS io non l'ho mai raggiunto con mano libera raggiungo quel grado di rasatura che mi ha soddisfazione cioè mi scelgo so che qua ho ancora qualcosa e ce l'ho anche di qua ma è una cosa che mi va bene voglio dire al contrario con rasoio di sicurezza appunto riesci a raggiungere il BBS se lo sai usare un po' di più perché hai molta più facilità in certi punti di di manovrarlo diciamo con mano libera cioè ti ritrovi alla fine ai 7 cm di lama in certi punti sei un po' contorto sicuramente assolutamente sì per esempio aspetta perché qua mi si apre mi si chiudo le schede come se non ci fossero domani manco fosse uno schedario Emanuele dice appunto che mi dà facebook user mi dice se sei ambitestro sì assolutamente sì ma non come potresti avere con un rasoio di sicurezza purtroppo c'è questa difficoltà io stesso ho utilizzato il mano libera per tre anni consecutivi quasi in modo ininterrotto sentendo comunque sia sempre un minimo di diciamo così di residuo di barba mi sono fatto radere da Paolo Barasso e ti posso assicurare che la barba per due giorni barra tre non è più ricresciuta però diciamo che comunque la difficoltà ce l'hai è matematico che tu ce l'abbia almeno che comunque c'è una grandissima mano è una grandissima manualità è anche una grandissima un grandissimo senso dello dello snodo fisico riesce a farlo io per esempio ho una vertigine su questa guancia qua lateralmente mi rimane complicatissimo affrontarlo con mano libera e con uno sciavetto infatti lascio sempre quasi perdere rasoio di sicurezza giri intorno e hai fatto il lavoro la bellezza del mano libera il canto il piacere l'affilatura e tutto quello che c'è dietro però sono anche dell'idea che comunque richiede ma tutti quelli che lo provano poi lo sperimentano molta molta dedizione e non è così facile però è piacevole perché è piacevole tu hai sentito come stavo delicato il filarmonica no? sì sì infatti c'è un suono rossato a parte che avevi qualche bollicina quella c'è è un rasoio che va benissimo cioè molto delicato sulla pelle io intanto sto continuando ad agitarlo non lo fa non lo fa perché poi dalla P diventa una D è già una D questa è una D speciale ma insomma ne fa male proprio allora allora senti visto che comunque sia la barba ce la siamo fatta la chiacchiera ce la siamo fatta con il con il Duros e con il filarmonica Ida lo dice comunque sia che conviene conviene con me io l'ho evidenziato perché voglio dire chi utilizza spesso e volentieri il il rasoio a mano libera sa che comunque sia ogni persona ha un certo limite di gestualità e anche di abilità nel radersi il rasoio di sicurezza secondo me rimane quello che è più versatile diciamo così mano libera è piacevole perché c'è tutto quel discorso che vi ho detto prima ve l'ho detto prima per quanto riguarda il gusto il piacere eccetera eccetera però non è così facile quindi non vi scoraggiate alle prime rasature con il mano libera perché la strada è lunga la strada è lunga e di perseveranza perché se non c'è il piacere dietro non c'è la passione dietro nei piccoli accorgimenti che richiede il mano libera lasciate perde e andate tranquillamente con il rasoio di sicurezza questo è il consiglio che vedo io in modo diretto lo confermo anch'io cioè all'inizio era molto difficile e poi piano piano impari come tutto e piano piano tieni delle rasature sempre migliori spariscono i tagli che una volta c'erano adesso non ci sono più e alla fine era sempre meglio voglio dire assolutamente sì rispondo pure ad Eros poi di pure tu quello che pensi di questa cosa per quanto riguarda le emulature quindi mi dice se utilizzi un wage dovrebbe essere più profondo rispetto a un all of full all of eccetera eccetera assolutamente sì ma rimane sempre il fatto che comunque sia se non è una grandissima manualità nelle zone più difficili anche se rasoio è profondo non riesce a portarti via completamente quello che è il disavanzo del pelo tu Federico pure te hai provato che ne pensi io ho provato un near wage e devo dire che effettivamente è più profondo che va via meglio cioè ti porta più profondo però vedo che anche questo è andato bene cioè su tutti i rasoi che vanno bene a me piace ho capito un po' che quello che mi piace di più è il quarto è l'allog tra le varie molature che ho trovato ho provato il full oil il quarter l'alf il near wage il quarter è quello che mi piace il più poi dipendo credo che dipenda anche dal tipo di barba che uno ha alla fine sì assolutamente assolutamente sono tante le variabili che girano però comunque al di là del fatto che la cosa primaria è scusate appunto l'affilatura del rasoio che è indiscutibile quella ma anche la stessa manualità la praticità e anche comunque sia le varie tecniche dico che è molto piacevole però è abbastanza difficile ma questo non esclude il fatto che fra un anno per dirti Federico riesca a raggiungere la capacità di radersi nelle zone che oggi reputa difficili io nonostante sono cinque anni vi dico la verità ancora non ci riesco perché comunque mi rimane molto scomodo affrontare un tipo di rasatura in questa zona molto molto difficile premetto anche che mi rimane abbastanza difficile sulla parte del mento perché è tosta e mi immagino anche la zona baffi perché la zona baffi comunque sia è molto molto piccola quindi di conseguenza se non erro i barbieri da una volta avevano anche i due ottavi per rifinire appunto la zona dei baffi più piccolini quindi utilizzavano due rasoi poi c'era quello bravo che non c'era problemi quindi andava tranquillamente c'era quello che magari si senteva più sicuro utilizzando appunto questi rasoglietti un po' più piccoli come dicevi ieri che ci siamo sentiti probabilmente quel camisori che ha la lama più piccola cioè non hai 7 cm di lama ma più o meno come una lamenta riesci a fare anche i punti più difficili riesci a gestirlo un po' meglio probabilmente ma sì la filatura simmetrica sostanzialmente sì il camisori comunque non ha una lunghezza come il mano libera tradizionale quindi avendo questa questa lunghezza ridotta secondo me ti permette di andare nelle zone diciamo un po' più ostiche senza grandi difficoltà cioè neanche hai la paura che se ti parte il rasoio perché se incanta perché comunque è normale che se incanta perché l'intinatura che tu utilizzi non è perfetta quando vai in contropelo perché in teoria da quello che mi è stato spiegato tanto tempo fa il contropelo andrebbe fatto con un rasoio appoggiato completamente sul viso quindi il contropelo dovrebbe essere così quasi sdraiato però devo dire quando vai in zonamento o soprattutto in una zona dove è difficile io ho questa parte qua che è difficilissima vedo che comunque si attende ad agganciarsi un attimo e a saltellare anche se l'affilatura è perfetta ve le dico non ho provato davanti ho riscontrato sempre lo stesso problema però non demordere non bisogna demordere ma comunque ma sto burros com'è allora secondo me è l'unico tra i tabacosi che ho sentito che ha quella nota affumicata e chi ne sa un po' di svato di tabacchi sa che la tacchia è bello affumicato questo qua è l'unico dove in fondo senti quella nota affumicata secondo me uno ho provato anche il furia però mi piace di più il puros come il tabacoso perché sono tutti leggermente vanigliati anche alla fine ma sì ma ce l'hanno è leggermente più dolce e meno scuro diciamo così per quanto riguarda il mio pensiero l'ho consumato tutto voglio vedere se si vedeva la piramide olfattiva ma è tutto consumato beh piramide olfattiva beh quello mi dovresti fare tipo i sommelier lo senti e mi svisceri le fragranze così mi racconti oggi questo è servito su un buggete paglia della fava tonca quindi ragazzi situazioni particolari sul mano libera ce ne stanno situazioni che potrebbero essere interessanti ce ne stanno tante rispondo pure aspetta perdonami ma non vedo non vedo il nome purtroppo da qui sono visto un video di Mastro Livi come Treo Rasoia Manoliva Barra d'Acciai beh tutti i rasoi nascono da una billetta dietro c'è un grandissimo lavoro un lavoro anche di conoscenza un lavoro anche di precisione e l'esperienza fa tanto fa tanto sicuramente ma il bello appunto del rasoio è che come un coltello nasce da un pezzo di ferro detto in modo volgare e poi mano mano prende vita come Pinocchio Pinocchio è una ciocco di legno a un certo punto gli viene il naso grosso così vabbè ho capito da un altro gruppo le sbarbate particolari allora volevo ripreciso non so che io sono una che utilizza mano libera da molto poco cioè non vorrei che la gente si scoraggiasse all'inizio andate avanti perché io sono tre mesi quattro forse che lo utilizzo tre mesi quotidianamente e più vai avanti più riesci a prendere mano è come suonare uno strumento cioè all'inizio c'è là che fai una nota e piano piano riesci ad affinare la tua tecnica ma sicuramente a me quello che mi piacerebbe tanto è vedere le persone che fanno parte di questo gruppo qua lo dico e qua ve lo dico fare delle dirette o postare i loro video sulle loro rasature ma lo dico se riscontrano delle difficoltà ma non perché debba io commentarle per forza ma perché comunque tutti quelli che fanno parte di questo grande gruppo consigliano tranquillamente io spesso e volentieri se ce l'avete fatto caso commento poco perché commento poco perché mi piace che l'utente che magari su sei mesi tre mesi quattro mesi che ormai ha preso confidenza anche con lo spirito del gruppo la diciamo così lo spirito di partecipazione di coinvolgimento anche nello stesso tempo di condivisione riesca a consigliare al nuovo che entra le varie tecniche o qualche suggerimento l'importante è quello perché poi questo fa che il neofita che entra oggi non si trovi in qualche maniera un po' disorientato perché leggendo di qua di là c'è chi dice una cosa chi dice un'altra io semplicemente vorrei che chi ha difficoltà non si vergognasse di fare una diretta perché nessuno ve morde ve mozzica ve fa niente e tutti gli altri magari possono sottocommentare e aiutarlo perché comunque nello scambiarsi informazioni non c'è niente di male è come se stessimo in un nello stesso bagno a farci la barba d'estate in palestra dove pare al lavoro qualsiasi posto dove uno si scambia informazioni senza sentirsi mai uno superiore rispetto all'altro perché se questo succede nel mio gruppo toccaori così la faccio un po' Maria De Filippi giusto che farvi capire quindi se volete fatelo tranquillamente non c'è problema i gruppi servono a questo in teoria servono a questo quindi ve lo scambio d'opinioni non c'è bisogno soltanto di uno che ve dice o ve consiglia o ve racconta le sue tecniche ma c'è bisogno anche di valutare se quelle tecniche che un tizio utilizza sono applicabili anche a tantissime altre persone quindi fatto sto simposio qua sto discorso qui tu che mi racconti Federico questa sbarbata che impressione ti ha fatto il filarmonica allora io attualmente ne ho provati un po' di vintage e cerco di spiegarmi allora il filarmonica è uno dei pochi vintage che ho che ha ancora la lama piena 8 ottavi una lama grande anche perché di solito mi facevano 6 8 ottavi è bello perché ha un rumore anche diverso dagli altri è molto più oscuro il rumore fa quasi paura quando lo senti che va giù senti questo rumore grosso però alla fine non lo senti avendo messo anche il dopo barba sono praticamente senza agitazione senza niente cioè ti pulisce bene e ti dà questa sensazione di questo rumore pesante che ti fa un po' paura però alla fine è molto delicato sulla pelle poi usare un vintage e anche pensare a quante barbe ha fatto questo rasoio perché benché vada sarà del 70 questo rasoio dunque è una cinquantina d'anni pensare in quante mani è passato quante barbe ha fatto che strada ha fatto perché i filarmonica sono spagnoli sei partito dalla Spagna dove è andato dalla funizione a mano io su molte cose belle come anche sui rasoi moderni cioè io ad esempio penso io ho visto il video mentre lo faceva quel rasoio cioè dalla billetta come si diceva prima è nato è nato il rasoio cioè il mano libera secondo me è storia anche storia anche quelli moderni perché sono fatti a mano non sono industriali parlo di artigiani moderni perché se dopo compri un bocker sono fatti nelle fabbriche sono fatti in catena di montaggio credo non credo che ci siano ancora gli ometti che martellano a mano sui bocker gli ometti che martellano a mano è troppo bello aiutante aiutante del babbo natale sotto natale e si mette lì tinti tinti e martellare i rasoi no è allora ripeto con il mano libera non riesco a ottenere un bbs ottengo un bbs che piace a me però invece col direo ottengo il bbs però più soddisfazione avrà per il micromano libera beh assolutamente che ne pensi questa domanda penso che tu la riesca a leggere con questo con il murro sono due rasoi che vanno benissimo di che due come anche il puma che avevo provato l'altro giorno è un altro rasoio che va bene sono due stili differenti cioè il murro lo senti un po' meno di questo quando a livello sonoro diciamo però anche quello lo passi è delicato e porta via senza fare irritazione né niente fa un po' più impressione a vederlo perché è ancora più cicciotto secondo me il murro da vedere però hai questa lama grande che passa sulla pelle e alla fine non la senti tutto questo logicamente è sul rasoio anche affilato bene perché se dopo ti capita un rasoio che non ha affilato lo senti come lo senti sulla pelle il rasoio eh beh saltella non taglia bene non va in profondità non è preciso e sono tante le cose quindi diciamo noi abbiamo condiviso questa esperienza l'abbiamo voluta condividere stasera nel gruppo perché comunque secondo me era interessante per chi fa parte di questo gruppo e e quindi per avere una prova tangibile di quello che è successo senza tagli classici che si possono fare nei video eh poi pubblicati in secondo momento scusate e che si possono fare anche nel viso oltre che nel video i tagli classici no mi banno ragazzi buona serata grazie si inginocchi si inginocchi no comunque dai è divertente no perché comunque sì c'è secondo me un po' troppa di confusione nel almeno parlo per me io tu lo sai voi lo sapete io parlo sempre per me non mi metto a fare il professore ne ho provata le cose devo dire che l'esperienza è sempre stata quella che ho condiviso con voi che ho condiviso stasera e che ha condiviso anche Federico quindi io se volete qualcun altro che utilizza il mano libera si mette una sera con me qua davanti e mi spiega come serate e se raggiunge il bbs perfetto utilizzando una sola mano libera senza grandi difficoltà nelle zone un po' più ostiche quindi io se volete vi aspetto sto qua non c'è problema questo è un invito poi vediamo un po' qualche altra domandina 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 un po' anche perché non so quanto 37 minuti di diretta ragazzi questa è tosta questa è tosta vediamo un po' un'altra domandina peccato che non riesca a vedere aspetta passo da quest'altra parte che vedo comunque sia chi è che scrive perché se no non c'ho la visione allora Marco Bruno ti fa questa domanda vi ci poni un po' questa domanda il filarmonica è un full ollo non so se si vede se vedi che proprio poco dopo la costa comincia ad andare giù dritto senza avere curvatura e anche per quello che canta perché un wedge non riuscirai mai a farlo cantare perché alla lama bella rossa cioè va proprio giù a triangolo così e di conseguenza è difficile che riesca a cantare bene 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 allora aspetta un attimo che becco quest'altra domanda la diretta si può si può fare qualsiasi delle soglie per i due consigli di tutti aspetta si lo puoi fare con qualsiasi delle soglie nel senso che io se so che ci diamo un appuntamento un giorno X prefissato e la persona mi dice guarda io stasera lo scrivo sul gruppo vorrei fare la prossima diretta una comparazione in un confronto diretto come se uno sta sta tra tra amici per me non c'è nessun problema che sia sciavetta la sede di sicurezza e almeno che non multirama quello magari lo possiamo anche bypassare non c'è nessun problema e anche perché io posso anche invitare in questo grazie a questa piattaforma anche altre persone però diventerebbe secondo me una cagnara di quelle che non si capisce più niente quindi cerco di mantenere due persone massimo tre perché sennò diventa un casino e sennò mi farei una chiamata di gruppo siamo 8000 e passa persone tutti quanti piccoli quadratini sarebbe bello come esperimento perché sai che casino che invio fuori no spettacolo 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 aspetta è un'altra cosa sui mano libera che sto vedendo in giro che adesso come adesso c'è veramente tanta gente che parla che dice che fa su mano libera pietre pietrine pietruzze cioè io credo che fino a una ventina d'anni fa che i merveali facevano la barba non avevano tutta la fissa di queste pietre la giapponese questa e l'altra avevano il suo pezzettino di pietra belga dentro al taschino tiravano fuori e ti facevano la barba logicamente ripeto la differenza tra pietra e pietra la senti dopo quando vai in viso sicuramente però adesso secondo me si sta facendo si sta ingigantendo un po' troppo questa storia delle pietre per i rasoi eccetera dal punto di vista mio da quello che leggo su facebook in giro anche in internet già sta diventando un po' un po' troppo allora diciamo che dal punto di vista mio molte persone che ne parlano sono molto esperte nell'ambito sì però la difficoltà come ti dicevo ieri vedi stasera noi abbiamo un pochetto aperto il vaso di Pandora perché comunque tu sei bene che tu lavori con determinate pietre cioè tu muovi in giro nei paraggi che mi sente no no vai vai allora ragazzi sto tizio qua sto signore che è un padre adottivo perché voglio dire sistemato c'è una buona posizione quindi papà buonasera e ha speso bei soldini nel senso quasi quasi lo stipendio per le pietre e ha capito anche lui che la pietra pregiata dona una filatura migliore rispetto a pietre che costano poco ma parlo di pietre naturali quindi di conseguenza diciamo chi ha la possibilità di acquistare delle pietre importanti ha la facilità anche di di affidatura e una maggiore qualità detto questo non toglie il fatto che comunque la difficoltà nell'utilizzo in mano libera lo riscontra però è normale che se ti dico utilizza una pietra belga moderna le Ardennes e utilizzi invece una giapponesina come quella che è giapponesina mattone che c'è il tuo la differenza c'è sì ecco quindi le conseguenze la senti anche sul viso e quindi un rasoio con un filo armonica che è un signor rasoio vintage o un bambola affilato in modo corretto ma poi è questione anche di di acciai restituisce un feedback diverso il parlare di tante tantissime pietre secondo me manda in confusione poi l'utente che la vorrebbe acquistare perché non orientarsi quindi tu mi dici che magari c'è la pietra tedesca però che fa la prefinitura non fa la finitura che costa 350 euro ipotizziamo e poi alla fine quella non ti serve perché tu vuoi raggiungere anche la finitura quindi un buon risultato e te ne devi comprare un'altra e te ci hanno tu stipendi no uno e quindi per quello che io ho messo le mani avanti ultimamente ho detto ragazzi è un discorso anche di hobby hobby costoso ma anche bello cioè ripeto io parlo dalla mia miseria io ho tre pietre messe in croce pure storte perché la maggior parte degli eventi che abbiamo fatto insieme le persone che hanno affilato il rasoio lo hanno affilato sulle mie pietre quindi l'ho finite e di conseguenza mi devo un po' adattare io oggi mi sono affilato un rasoietto giapponese e dopo mi hanno un po' di foto e te faccio vedi che carino che è ma c'ha il bisellone però c'ha il bisellone proprio però però è venuto abbastanza abbastanza bene quindi diciamo che comunque delle differenze che stanno l'Italo mi dice basta anche una belga beh effettivamente si basta la belga perché ci mancherebbe però magari la belga ti dà quel taglietto leggermente rustico non brutto ma leggermente rustico un po' più vivo anche perché comunque in Europa c'era la belga perché non si conoscevano tutte le varie pietre che c'erano in Giappone poi ripeto io non ne parlo più di tanto perché non è che io conosca tutte le pietre che esistono ne posso conosci cinque o sei quindi quello mi fermo anche perché non ce l'ho e non non investo soldi su tutte queste grandi pietre mi sembrerebbe un po' una grande un grande impegno quindi per quello che ne ne parlo poco però ho visto per esempio molte pietre che secondo il punto di vista mio sono molto 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 lento sannate come se fossero la risoluzione dei problemi di tutti gli affidatori anzi neo affidatori quindi io mi fermo là non aggiungo altro perché poi ognuno giustamente trova la sua quadra con le pietre che c'è sotto mano che sono state consigliate non metto bocca però dico che comunque nel panorama secondo me domani mi affaccio all'affilatura non ce capisco più niente perché già sembra che si parla di che cosa con il la mirietta di pietre che vengono tirate fuori ogni tanto boh io dico e mo si diventa anche perché dopo ci sono tante pietre che fanno lo stesso lavoro alla fine guarda io ti dico entrerei in una confusione tale che non saprei più se quella che c'è sotto mano è buona o meno sì sì purtroppo quello è il problema secondo me quindi rimane un po' difficile per chi si approccia oggi e dice ma come mai non mi sa fia il rasoio che sbaglio non sbaglio c'è un discorso anche di manualità allora vediamo un po' se trovo qualche altra domandina se no ragazzi noi se ne andiamo belle in chiusura grazie tecnici fa tanto il raffidatore è un grande non si fa niente ecco molti che acquistano i pietre senza sapere la base del raffidatore anche questo anche questo non è sbagliato questo lo mettiamo un attimo te lo faccio vedere pure a te Federì perché tu non vedi i commenti sì sì pienamente d'accordo cioè devi avere delle basi qualcuno che ti dice come fare tutto e dopo devi anche capire la pietra che non è semplice e quindi ce ne stanno vedo Eros che mi ha scritto che sarebbe fare la lasatura in tandem con la mano libera e scrivi sul gruppo se mettiamo d'accordo stabiliamo un giorno e la facciamo senza nessun problema anche perché poi io voglio sfidare un po' tutti quelli che fanno parte del gruppo che dicono dicono ma non se fanno mai vedere ma io mi sono rasato bene perfetto e qua e là facciamoci vedere ogni tanto che è bello non fa male ma al momento anche il divertimento dell'isata perché come avete visto io ho confidenza con Federico ma ce l'ho con tante persone e anche un momento secondo me di divertimento di un momento di svago e poi magari ci divertiamo un giorno anche sul mio canale YouTube così avete un po' più di platea che ve sta lì a guardare e che ve va a venire la gocciolina del sudore qua perché poi ve viene tanto Federico mi è cascato non so che fine abbia fatto e vediamo se lo riesco a recuperare in qualche maniera che rimanno un'altra io rimando il link sicuramente c'ha problemi di connessione vediamo un po' se lo becco giusto per fare anche i saluti di tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso vediamo un po' se riesce a entrare o meno allora vediamo un po' vediamo un po' che vado giù un attimo di commenti abbiate un attimo di pazienza tutti i bps dietro la tastiera questo è top Cosimo questo è top no ma io io c'è scherzo io c'è gioco su sta cosa ci mancherebbe altro perché lo so che poi c'è chi ci riesce tranquillamente io ammetto il mio limite io lo dico dimostrarlo davanti a una telecamera a meno che tu ci abbia un una 4k e ti riesci a beccare in definizione in altra definizione quello che fai la prova è tangibile fino a che non lo vedi purtroppo non lo è spesso e volentieri quando mi faccio i micro taglietti e lo dico nei video voi nel video magari neanche li vedete però io li vedo quindi è corretto dire anche quello che succede perché siamo uomini e quindi può capitare però bella sta battuta è troppo divertente allora vedo che Federico è cascato completamente mi dispiace che sia cascato spero che sta direttuccia dei 48 minuti vi sia piaciuta anche se è troppo lunga vi dico la verità noi se beccamo come dico sempre nel prossimo video nella prossima diretta se vi interessa fa una rasatura come l'ha fatta con me Federico stasera fatemelo sapere nel gruppo ci organizziamo e lo facciamo se no amici cari se beccavo sul canale e io continuo a far male a barba da solo che non ci stanno problemi perché me la gusto di più quindi come dico sempre buone sbarbate buoni acquisti vi ricordo vi ricordo stasera vi faccio proprio ve lo dico spudolatamente anche un po' di pubblicità se vedete sotto che gira trovate se volete fare qualche acquisto sul post fissato in alto anche il codice sconto perché esiste quindi consigliatevi scambiatevi informazioni e cercate sempre di condividere anche l'errore che fate è importante quindi grazie a tutti quanti buona serata e noi ci becchiamo prossimamente come dico sempre buone sbarbate ciao vi saluto anche Federico ma per me o gli si è spento il telefono o gli è cascato il telefono grazie ciao a tutti grazie